bella raga ciao a tutti dal comendone veneziano ragazzi primo pay per view per il comendone united states championship triple treat con gulberg e benoit speriamo in un match epico ragazzi ma sarà durissimo messo lento come di velocità match quindi sarà proprio devastante ci sarà solo questo match in questo video ma sarà ad alta tensione secondo me ragazzi entra il campione new york eccolo qua eccolo qua ragazzi mamma mia mamma mia fa paura ma c'è un po di raga non capisco perché ogni tanto con le entrate così un po random ecco il supremo eccolo qua ragazzi con le nuove finish e le nuove mosse speciali chiaramente non le ho potute creare perché forse non c'è neanche su questo wwe eccolo qua e l'ultimo è chris benoit ecco il chris anche lui bello cazzuto benoit 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 il mitico benoit vai titolo degli stati uniti ragazzi comanda veneziano vai porre la sfida ecco si comincia subito di merda gulberg chiaramente vuole difendere ancora la cintura bravo veneziano relax come relax spettacolo puro fiori spettacolo purissimo bravo come molto bene ecco l'inculate mamma mia grazie benoit mi sborgo il bel è incazzato nero proprio un triple treat che sfiga però veramente però primo pay per view veramente un'emozione grande dopo un paio di mesi aia si vabbè ma tutti contro di me fate a cagare però eh troppo presto eh vaffanculo golberg allora vaffanculissimo proprio ottimo ma che sboccio fio e se la me c'è già già di tensione c'è già tensione eh vaffanculo spaccatuto come spaccatuto spaccatuto grande eccolo qua questo è il veneziano che vogliamo ecco io prendo l'arbitro molto bene bastano per i coglioni tutti contro benoit ecco benoit si difende molto bene golberg mi sta massacrando sono già messo in impatto lento e sono già così bene molto positivo troppo tardi calma come stai tranquillo veneziano che ancora tutto è possibile e non rompere il cazzo ok braccio teso e braccio teso no me l'ha parata ma puttana troia me l'ha parata sicume grandissimo ne la paro io stavolta e godo godo libidine eccola qua vai una nuova massa speciale questa non proprio spettacolare però mi piaceva no ti prego come regalami un sogno regalami un sogno che ce la possiamo fare se non parlo forte perchè è come sempre è tardissimo attenzione attenzione pedigree del cube pedigree del cube grande comendone no no non posso perderlo così mamma mia porca puttana eh golberg quello ho messo meglio probabilmente infatti lo sto schienando lo fa un culo uno uno ok attenzione benoit molto bravo benoit molto bravo chris voglio la cintura cazzo la voglio eh casino infernale adesso sul ring eh e bravo chris ancora benoit scatenato drop kick come indiano è stanchissimo il cube signori il cube è distrutto in questo primo pay per view che mi può dare il titolo di united state of america eh spear clamorosa spear clamorosa e qua rischio mamma mia il cube è finito eh bravo come back come back bravissimo vai ti prego non sbagliamolo nooo l'ha fallita l'ha fallita l'ha fallita ma puttana troia eh siamo tutti stanchi però eh grandissimo goldberg dai venite su dai fida una mignotta vieni su porcellone dove lo porta goldberg attenzione mamma mia cosa è successo fiori benoit e goldberg se le stanno dando di santa ragione benoit sembra quasi infortunato fiori vorrei principale anche io la festa però mamma mia dai fai la spear dai cazzo attenzione stunner del cube stunner del cube dai dai bill è ancora pedigree è ancora la pedigree ciao ciao nooo me l'ha parata ma dio santo incredibile incredibile mamma mia che match mamma mia no come svegliati torniamo su mamma mia the epic match fiori epic match bravo venezianone parola ho 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 e gliela paro e gliela paro e gliela paro e gliela paro merda stavolta no stavolta no 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 benoit no benoit grazie 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 bill ti amo bill mamma mia che match è un match epico comunque epicus match ecco golberg ce la fa ancora golberg che mi spacca i maroni qualcuno rischia l'infortunio fiori qualcuno rischia l'infortunio niente non se ne va ma puttana miseria ecco troppo presto ancora troppo presto ma va a cagare alzati come fiori siamo tutti finiti è ufficiale le ufficiale le ufficiale bravo benoit che si salva mamma mia il come è morto eh fiori il come è andato bravo dai prova lo schieramento e come back fatale che sfiga 1 2 bravo come è un match veramente che può succedere di tutto può succedere di tutto 1 2 mamma mia aia eh il come è finito ragazzi è quello messo peggio eh si è quello messo peggio torna subito torna subito oh cosa vuole fare Bill attenzione attenzione pedigree del cu ma non ci credo bravissimo dai niente da fare niente da fare dai dai proviamoci 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 eh gol brella eh stavolta non ho il culo del soprio adesso mi serve il culo attenzione forse adesso forse adesso oh no benua di merda il come non ce la fa più fio il come non ce la fa più il come non ce la fa più bravo no il come è stanchissimo ufficiale è tutto troppo ufficiale fio i attenzione uno due e si salva e si salva e si salva voi pugnate a benua uno due dio cristo però roppe brache il mitico roppe brache spear di golberg incredibile mi sta massacrando bill eh grazie benua siamo finiti fio i siamo tutti finiti attenzione attenzione è l'ennesima pedigree l'ennesima pedigree di giornata eh non c'è la falsa uno eh niente gol ber sanguina però eh mamma mia epic match epic match bravo kuma vai non ce la fa più veneziana non ne può più non ne può più ciao bello adesso proviamoci e adesso forse è l'occasione della vita o adesso o mai più vediamo vogliamo schienarlo subito proviamoci uno due tre no 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 il furto è il furto il furto porca puttana la tre porca puttana la tre porca puttana la tre ecco era tre non ci credo era tre non ci credo bravo com'è che si salva adesso aspettiamo il momento giusto aspettiamo il momento giusto no no che sfiga no che sfiga no che sfiga ciao beppe uno due vaffanculo allora adesso buttiamone fuori uno stanchissimo veneziano no e va fuori anche gol ber ma puttana la troia che tensione fioi schienamento eh dai che ce la facciamo uno due non ci credo non ci credo non ci credo dai staller di veneziano eh vabbè però non ti coglioni però eh ecco ecco unesimo più non che faccio più che sbolo che match eh 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 benua no ennesima pedigree ennesima pedigree ennesima pedigree ennesima pedigree ennesima pedigree no no vince gol ber non ci credo non ci credo non ci credo ha vinto a bill ma dio santo ho perso il primo pay per view eccolo qua ora il porco gol ber è ancora campione degli stati uniti pazzesco eh ho fatto il possibile ho fatto un gran match ha sfruttato la mia pedigree ero troppo stanco non ho parole no no parola andiamo a vedere gli altri match Battista Booker T vince tag team vincono loro ma sono veramente incazzato vediamo rivalità ancora non mi metto in nessuna rivalità purtroppo e vediamo qua classifica attuale qua siamo al ventitrecimo posto quindi ancora molto dietro nel singolo siamo ancora primi per il momento però ho sprecato veramente un'occasione d'oro raga un saluto da Ocumendo benessian ciao